Oggi, come ogni primo lunedì del mese, andremo a vedere un video dedicato al gaming e oggi è incentrato proprio sui computer da gaming. Dividerò il video in tre parti. La prima è in cui vi spiegherò i migliori preassemblati che sono usciti su Amazon. Seconda, per i più esperti, non parliamo più di preassemblati ma di build che si possono fare per varie fasce di prezzo. Terza parte, andiamo a vedere qualche periferica gaming che si può associare a questi computer. Per la fascia di prezzo più bassa, ossia 400€, abbiamo sempre il PC che vi ho spiegato nello scorso video. Molti di voi l'hanno acquistato e mi dicono che va davvero davvero bene e rimane sempre questo. Non vado a descriverlo perché c'è tutto nel video scorso. Sappiate che comunque abbiamo un Resin 3, un 8GB di RAM e un SSD super veloce che ci permette di giocare al meglio. Con circa una trentena di euro in più, andiamo intorno ai 430€, troviamo questo computer che è un pelino migliore del precedente soprattutto perché abbiamo delle RAM da 3200MHz, quindi più veloce. Abbiamo un processore identico ed è tutto uguale. È solo un po' più carino il case, che avete le luci che potete regolare, ma con un 30€ in più andiamo ad avere delle RAM ovviamente più veloci. Parliamo ora del computer che secondo me ha la miglior qualità prezzo fra tutti quelli che andremo a vedere. Stiamo parlando di questo ZV2, questo computer che è stato anch'esso acquistato da molti di voi successivamente sotto il mio consiglio e che ha dato un grande feedback. Questo computer va davvero bene soprattutto perché iniziamo ad avere una scheda video abbastanza potente che ci consente di avere alta qualità, infatti abbiamo una 1050 Ti, quindi ottima per il gaming anche per registrare, soprattutto per i software Nvidia, caratteristico proprio della scheda video. Abbiamo delle RAM da 2666MHz che rapportate alle prestazioni del PC vanno davvero bene e sono 16GB, 4GB di memoria dedicata al video, della scheda video e un processore abbastanza buono, comunque sempre ottimo per il gaming. Con 650€ iniziamo ad avere prestazioni davvero davvero buone, soprattutto per il gaming medio che faranno quasi tutti quelli che guarderanno questo video. Abbiamo questo PC con un Ryzen 5 2600X, processore molto molto buono, molto molto veloce e una scheda video con 8GB di memoria grafica dedicata, ossia l'RX 570. Abbiamo sempre 16GB di RAM, 240GB di SSD dove è installato Windows, quindi molto molto veloce, metterete tutti i giochi e anche 1TB di hard disk dove mettere tutti i file in più che non ci serve tanta velocità. Il case è davvero carino, questo modello mi piace un sacco, ricordo, piccola parentesi, che tutti questi PC sono pronti quindi appena vi arrivano a casa basta che attaccate la spina e loro funzionano alla perfezione, hanno già tutto installato. Ora ci alziamo di un bel po', andiamo sugli 850€. A questa fascia riusciamo a trovare dei PC davvero davvero buoni. Qui iniziamo ad avere prestazioni di gaming davvero davvero elevate che vi consentono di fare gaming anche ad alto livello. Questo PC grazie a un Ryzen 5, una RX 5500 XT da 8GB e RAM da 3200MHz riesce ad avere altissime altissime prestazioni. Io sinceramente se dovesse acquistarlo ci metterei un altro banco da 8GB in modo da arrivare a 16, comunque con 8 va abbastanza bene oppure potete scriverlo al venditore che magari vi fa qualche compromesso perché secondo me su una bestia del genere 8GB sono giusti ne metterei però 16 visto che non costano neanche tanto. Oppure potete acquistarlo e metterlo voi perché ricordo che tutti questi computer potete fare upgrade come volete quindi potete cambiare tutto quello che volete. Ha un case bellissimo che potete cambiare tutte le luci RGB al suo interno e una scheda video e un processore che vi consentono di fare gaming ad alti livelli. Abbiamo ovviamente un SSD M.2 ancora più grande, 512GB dove potete installare tutto quello che vi serve e soprattutto i giochi che si andranno super veloci. Alternativa allo stesso prezzo, se la giocano abbastanza bene anche se secondo me vince questo PC che vi sto per far vedere abbiamo un PC con la RTX 2060 quindi possiamo usufruire di tutte le prestazioni del Ray Tracing un processore davvero davvero potente e 16GB di DDR4 che garantiscono davvero ottime prestazioni. Secondo me questo qua, questo prezzo è un pelo migliore rispetto al precedente soprattutto perché io apprezzo molti più le schede Nvidia visto software dedicato per registrare e streamare quello che volete e soprattutto per 16GB di RAM. Comunque se la giocano molto bene perché questo è un processore un pelo meno potente e la scheda video un po' più potente, quello precedente scheda video un po' meno potente ma processore più potente quindi siamo molto vicini anche se a parità di prezzo io acquisterei questo. Ma ora per i più esperti vi mostro tre build che ho fatto accuratamente che potete trovare sempre qui in descrizione ovviamente questi pezzi dovete assemblarveli e installare Windows, non è difficile vi lascio magari un video su come fare basta installare Windows su una chiavetta e poi inserirlo all'accensione qui andate a risparmiare un po' di prezzo avendo un po' più di prestazioni però dovete saperli montare e fare tutto quindi andiamo subito a vedere questo PC. La prima è la build più economica che sono riuscito a fare siamo intorno ai 370€. Questa build secondo me va davvero bene abbiamo un Ryzen 3 3200G che offre ottime prestazioni 16GB di RAM DDR4 3200MHz che vi danno grande grande potenza ovviamente qui se volete risparmiare un po' potete risparmiare sulle RAM perché sono un pelo troppo rispetto a quello che serve per questo PC un'ottima scheda video molto veloce che è il modello B450M il case che uguale a quello che avete visto nei computer precedenti che a me piace un sacco ed è anche molto economico un SSD e un alimentatore per far andare il tutto. Questo è molto economico ha la scheda video integrata che però a questo prezzo vi garantisce di iniziare un po' a fare un po' di gaming e meno di così non si riesce a far nulla. La seconda build siamo sui 540€ ottima build anche questa e vi ho messo anche una scelta qui dentro abbiamo un processore che è Ryzen 3 3100 ottimo e come scheda video vi ho messo una scelta o potete andare spendendo un po' di più alla 1650 che è un'ottima scheda video però costa una trentina euro in più la sua scheda video diciamo con prestazioni molto simili che è la RX 570 anche se dovesse scegliere attualmente prenderei la RX 570 però vi ho messo la scelta perché molti molti me compreso apprezzano molto il software Nvidia le lame sono le stesse di prima molto buone stessa scheda madre di prima ottima stesso case di prima che a me piace un sacco vi ho messo un altro ssd i sandisk che è un pelino più veloce e un alimentatore un pelo più potente della Corsair per alimentare il tutto terza build un pelo più interessante abbiamo un Ryzen 5 2600X che vi offre la potenza che più avete bisogno ho optato per una scheda video davvero davvero buona ossia la 2060 la 6 GB si potete usare tutta la tecnologia Ray Tracing e va perfetta per il gaming e tutto quello che dovete fare anche editing RAM velocissime della Viper che sono le 3400 MHz quindi sono davvero davvero delle RAM velocissime secondo me fra le migliori che potete trovare attualmente nel mercato una scheda madre un pelo più diciamo potente di quella precedente anche un po' più completa un case della Noah che mi piace un sacco ed è davvero davvero ottimo e bellissimo esteticamente ssd m2 da 256 GB super veloce alimentatore Sharkroom da 600 Watt e facoltativo se vi serve un terabyte di storage dove mettere tutti i file che non serve a velocità quindi questa è quella build un po' più potente che offre offre grandi prestazioni e potete vederla voi ovviamente per fare un video un po' più veloce e più snello non mi sono soffermato su ogni build e su ogni pc tutte le caratteristiche e tutti i componenti sono in descrizione delle varie pagine Amazon se avete bisogno di qualsiasi informazione basta che mi scrivete nei commenti o mi scrivete su Instagram e ora andiamo alla terza parte del video vi mostro delle componenti che ho scelto per il gaming siamo sulla fascia media ho scelto un pc un po' di fascia medio alta però ottimo gli altri componenti abbastanza economica per contenere il prezzo questo qua è un monitor Samsung un po' curvo 24 pollici con 4ms di risposta full HD 144Hz davvero davvero ottimo per il gaming e anche molto bello esteticamente mouse economico però molto funzionale è questo mouse della OK che avevo già presentato e che utilizzo tastiera gaming quella della OK costa davvero poco è anche in offerta è meccanica switch blu perfetta perfetta per giocare e fare del gaming come ultima queste cuffie Tron Smart che ho utilizzato sono davvero comode hanno anche vari tasti per regolare il volume direttamente dalle cuffie per accendere e spegnere il microfono led e tutto quello che vi serve vi offrono un'ottima immersione del gioco e un ottimo microfono per comunicare con i vostri compagni di squadra quindi secondo me ottime per l'utilizzo ovviamente queste sono delle periferiche che ho preso ci sono video dedicati sul mio canale sulle periferiche da gaming qua ho preso le periferiche economiche ovviamente periferiche costose ne trovate quanto ne volete spero che il video vi sia piaciuto se si lasciate un bel like se volete un altro episodio scrivetelo qua nei commenti io sono Lorenzo e noi ci vediamo al prossimo video ciao